Sono ore di tensione e di attesa anche in città per l'attesissima finale degli europei che vedrà in campo l'Italia Wembley contro l'Inghilterra, civita vecchiesi speranzosi per un successo che sarebbe storico. Non tutti i problemi di approvvigionamento idrico sono stati risolti, lo hanno segnalato alla nostra redazione molti telespettatori dopo il servizio di ieri. Un evento davvero speciale per la Blue Shirt Diving, l'associazione locale ha organizzato una manifestazione dedicata alle persone con mobilità limitata. Questa settimana l'anonimo suonettista dialettale cita Charlie Chaplin e Gabriella Ferri per la sua Titina, dove parla della situazione delle strade cittadine. Anche nella prossima stagione non ci sarà la promozione diretta in Serie D. Questa è una delle novità principali per il civita vecchia nel nuovo campionato. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. C'è tensione palpabile anche in città per l'attesissima finale degli europei che vedrà l'Italia ospite di Wembley per affrontare l'Inghilterra. Grande la fiducia dei civita vecchiesi nel gruppo di Mancini ma c'è anche un po' di paura per Sterling e Kane, oltre che per il fattore campo. Domani sera si potrà seguire la sfida anche sul maxi schermo allestito a Piazza Fratti da parte dei locali Dolce e Salato, Red Carpet e Tarta. In attesa della finale siamo andati in giro per Civita Vecchia per scoprire le impressioni dei cittadini ed avere qualche pronostico. Sentiamo. Come la vedete questa finale Italia-Inghilterra? La finale in genere è sempre una storia molto difficile da pronosticare, però penso che visto il gruppo che si è creato ci siano molte possibilità per portarla a casa. Cosa deve fare l'Italia per preparare sull'Inghilterra? Sterling e Kane ci fanno paura oppure no? Con il duo difensivo Chiellini e Bonucci credo che l'Italia non sia inferiore a nessuno, non debba preoccuparsi proprio di niente. Comunque abbiamo tanti giocatori in grado di risolvere la partita come Chiesa, lo stesso Immobile che anche se non ha influito molto, però è un giocatore che può sempre sbloccare queste partite. Dove vedrai questa partita? Credo a casa perché fino adesso l'ho sempre vista lì e quindi penso sia giusto rimanere là. Speriamo bene, speriamo di vincerla. Con quel centrocampo lì si può solo che vincere. Però di non sofferto con la Spagna il centrocampo? Diciamo che la Spagna ci ha messo sotto perché ha adottato un altro gioco uguale all'Italia. domani prevedo che segnerà, questa è una bella domanda, Barella, primo collo è Barella. Chi segna segna, speriamo che la portiamo a casa, speriamo di vincere, forza Italia. Ma sei scaramantico? Un pochino, un pochino, un pochino. Ad esempio una cosa che possiamo pronunciare? Non si può dire, non si può dire, se no non è la scaramanzia. E con la Spagna come hai visto questa partita? È stata molto tesa? Con la Spagna è stata una partita tesa perché loro giocano un buon calcio, Luis Enrique è un buon tecnico ma alla fine il cuore italiano ha prevalso su tutto. Campione di biliardo, quindi non so quanto ha seguito queste partite. Io ho seguito pure Berrettini però, anzi più Berrettini che comunque domani due belle finali. Quindi una domenica tutta in Inghilterra praticamente, tutta a Londra. La domenica inglese, speriamo di portare a casa tutti e due i risultati, insomma. La nazionale sono molto fiducioso perché comunque ha giocato bene fino adesso. Parte un po' la partita con la Spagna, dove la Spagna ha giocato meglio. Non è che abbiamo giocato male noi, ha giocato meglio la Spagna. Però abbiamo tenuto bene e poi c'è un grande gruppo. Ce la facciamo a vincere? Ma io sono fiducioso, penso di sì. Sperando che l'arbitro si comporti non come l'ultima partita che ha fatto, insomma. Che sia un arbitro non di parte perché il rigore che c'è stato nell'ultima partita, insomma. Non è che ha convinto molti, due palloni nel campo, eccetera. Speriamo bene. Il Covid-19 torna a farsi sentire in maniera decisa in città. Nel nuovo report di ASL Roma 4 e Regione Lazio si legge che in città ci sono quattro nuovi casi positivi. I prossimi giorni ci faranno capire se a Civitavecchia si sta sviluppando un nuovo cluster. Non viene segnalata nessuna guarigione. Intanto al centro diagnostico Buonarroti si interrompe il trend della negatività. Tra i 74 tamponi molecolari e i 96 tamponi rapidi sono stati riscontrati due casi. Si tratta di due adolescenti non vaccinati, uno residente a Santa Marinelle e uno fuori distretto. I campioni sono stati inviati ai laboratori spedalieri per la tipizzazione necessaria ad individuare se si tratta di varianti. Nei giorni scorsi il consigliere comunale Vittorio Petrelli sulla scorta dei dati sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal nostro comune ci ha proposto alcune iniziative, tra cui una campagna per implementare buone pratiche e migliorare quindi la performance ambientale del territorio. Lo affermano il sindaco Ernesto Tedesco e il vice sindaco Manuel Magliani che spiegano di aver raccolto la proposta di Petrelli e che i contribuenti riceveranno nei prossimi giorni una lettera che cercherà di chiarire alcuni aspetti della differenziazione domestica. Evidentemente non tutti i problemi di approvvigionamento idrico sono risolti. Il nostro articolo di ieri nel quale veniva sottolineato come, a differenza degli anni scorsi, in questa estate si stesse vivendo una sorta di momento magico per quanto concerne l'erogazione di acqua, ha ricevuto qualche disapprovazione da parte di cittadini che hanno sostenuto il contrario. Ascoltiamo il servizio. Evidentemente non tutti i problemi di approvvigionamento idrico sono risolti. Il nostro articolo di ieri nel quale veniva sottolineato come, a differenza degli anni scorsi, in questa estate si stesse vivendo una sorta di momento magico per quanto concerne l'erogazione di acqua, ha ricevuto qualche disapprovazione da parte di cittadini che hanno sostenuto il contrario. Attraverso i social da diverse zone di Civitavecchia sono arrivate informazioni diverse di oggettivi e situazioni di difficoltà anche se non paragonabili a quelle a cui eravamo abituati, in particolare nelle estati del 2017-2018 quando intere zone della città rimanevano per intere giornate senza approvvigionamento idrico. In quegli anni, ma anche la scorsa estate, fioccavano le proteste con quotidiane telefonate di utenti infuriati alla redazione del TRC Giornale con una serie di informative inviate alla mail redazionale. Nel corso di quelle conversazioni i cittadini, in particolare i residenti nelle zone medio-basse della città, manifestavano la loro rabbia, la loro frustrazione per una situazione di difficoltà che sembrava non avere fine e che in qualche caso andava addirittura a incidere sul loro sistema nervoso. Quest'anno nulla, praticamente nessuna telefonata, nessuna mail alla redazione del TRC Giornale. Di qui l'articolo nel quale abbiamo sottolineato il grande miglioramento della situazione, peraltro confermato dallo stesso assessore competente. Prendiamo atto alla luce dei commenti arrivati via social che la situazione è ancora lungi dall'essere definitivamente risolta e che esistono ancora problemi. Vogliamo però rivolgere un invito a quanti hanno voluto adesso rimarcare l'inesatezza delle nostre affermazioni, sostenendo di non aver finora protestato per la stanchezza rispetto ad una situazione che si protrae da anni. Non bisogna stancarsi di protestare, mai. La protesta è nel diritto di ogni cittadino che deve pretendere i servizi che peraltro paga. Esiste un numero verde a CEA, all'800 130 335, al quale rivolgersi per segnalare guasti di servizi e chiedere l'intervento dell'autobotte. Esistono poi le redazioni locali, come quella del TRC Giornale, che da sempre sono state a disposizione dei cittadini per raccogliere e diffondere le loro segnalazioni. Meglio protestare prima, non dopo. Ennesimo provvedimento incomprensibile da parte dell'amministrazione comunale è il commento di Italia Viva Polo Civico in merito alla delibera riguardante l'aumento dell'importo e l'estensione degli stalli per il parcheggio a pagamento. Secondo Italia Viva Polo Civico si tratta di un provvedimento che annulla la filosofia delle precedenti amministrazioni, le quali avevano adottato una tariffa ridotta alla mattina e gratuita al pomeriggio per ottenere una maggiore affluenza e rotazione cittadina, rivolta al mercato e ai negozi del centro cittadino. In raggiunta tedesco ha approvato la delibera per avviare i lavori per l'efficientamento energetico del tetto della palestra della scuola primaria Alessandro Cialdi in centro città. L'iniziativa si inserisce nel quadro dei contributi statali concessi alla cosiddetta norma Fraccaro che hanno visto il comune di Civitavecchia già impegnato in altre opere di questo tipo. Il totale dell'importo per i lavori è previsto intorno ai 170 mila euro. Si tratta di fondi statali. La Blue Shark Diving ha ospitato nel suo centro, immersioni, un evento speciale. Si è tenuto nei giorni scorsi una manifestazione dedicata alle persone con mobilità ridotta che grazie agli istruttori dell'associazione locale del presidente Andrea Pierfederici hanno avuto la possibilità di effettuare delle immersioni nel mare di Civitavecchia, il servizio. Un evento davvero speciale organizzato dall'SD Blue Shark Diving Civitavecchia e che si è rivelato un grande successo. Lunedì scorso l'associazione locale ha ospitato presso il proprio centro immersioni una manifestazione dedicata alle persone con mobilità limitata. Evento che si può denominare Barriere Zero, che ha visto la collaborazione delle scuole subacquee Cesena Blue e Idrasub Perugia, oltre che di HSA Italia, organizzazione che si occupa di attività subacquea e in particolare della didattica specifica per persone con disabilità. Da registrare anche la presenza delle telecamere di Rai 2, segno della portata nazionale dell'iniziativa, che inseriranno il servizio all'interno del programma o anche no. La Blue Shark Diving è un'associazione che unisce molti subacquei del Lazio che grazie alla sua logistica ottimale, unita alla sensibilità del suo fondatore e presidente Andrea Pierfederici, è da anni un punto di riferimento per chi pratica o vuole imparare le immersioni, anche quelle riservate a persone con disabilità. La nostra struttura, commentano dalla Blue Shark Diving, è l'unica nel centro Italia in grado di ospitare gli amici diversamente abili per poter salire sulle imbarcazioni. Si dice che il mare non ha confini, niente di più vero. Riuscire a dare il senso di libertà è un onore che scalda il cuore. Riuscire a dare il senso di libertà. Dopo l'identificazione della scultura di Apollo con Helios, ossia l'immagine più completa conosciuta nel Colosso di Rodi, realizzato alla metà del III secolo a.C. dallo scultore Careto, un altro importante frammento di scultura emerge dalle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. Si tratta di una bella testa femminile attualmente esposta nella Sala dei Marmi con una generica indicazione di pertinenza a una statua di culto trovata nell'area del porto romano di Centuncelle, voluta dall'imperatore Traiano. L'osservazione della testa basata su alcuni confronti con altre opere di età romana ha permesso di attribuirla a una copia di marmo greco del I III secolo d.C. della celebra Afrodite Cnidia di Prassitele, realizzata intorno al 360 a.C. dal grande maestro ateniese e considerata il primo nudo femminile dell'arte greca. Copie meglio conservate e restaurate dell'Afrodite di Prassitele si trovano ad esempio al Museo Pio Clementino del Palazzo Vaticano e Palazzi Althems di Roma, mentre insieme a un'altra testa detta borghese conservata all'ouvre di Parigi. Il frammento di Civitavecchia, oltre ad essere una novità, è una delle immagini originali del volto della dea concepita da Prassitele. La sezione di Civitavecchia del Pasfa, associazione per l'assistenza spirituale alle forze armate, ha fatto ufficiare ieri una santa messa per celebrare la beatificazione di Rosario Livatino presso la chiesa del Centro Simulazioni e Validazione dell'Esercito. Durante la celebrazione a nome del Pasfa Civitavecchia, la Presidente Leana Bruni ha donato alla cappella l'immagine di beatificazione di Livatino il primo magistrato ad essere elevato agli onori degli altari. Era presente il sindaco Ernesto Tedesco che citando le parole dell'ordinario militare Monsignor Santo Marciano ha lodato l'iniziativa in un ricordo del giudice che ha fatto della giustizia e delle leggi quasi una mistica. In occasione della giornata dedicata al patrono d'Europa San Benedetto da Norcia, accogliendo le parole di Papa Francesco che nelle domeniche del 13 e 20 giugno durante l'Angelus pregherà per le vittime del mare Nostrum, alle ore 11 di domani alla sala operativa della Capitaneria di Porto, Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia, Tarquini, amministratore apostolico di Porta Santa Ruffina, sarà in collegamento radio con gli equipaggi delle navi presenti in porto con i servizi tecnico-nautici e gli operatori portuali dello scalo di Civitavecchia che pregherà per tutte le vittime del mare. I giovani pianisti del liceo musicale Galileo di Civitavecchia ricevono riconoscimenti anche a livello internazionale. Al concorso europeo Severo Mercandante Riccardo Ciurlanti, 15 anni, prima classe, aluno della professoressa Sonia Turchi, riceve il primo premio assoluto con un punteggio di 100 centesimi per la categoria solisti dai 14 ai 16 anni. Il concorso organizzato dall'Officina della Musica di Napoli e prattrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli ha visto l'affluenza di giovani provenienti da tutte le scuole, licee, conservatori e accademie di tutta Europa. La commissione, formata da musicisti professionisti del Teatro San Carlo e da docenti del Conservatorio San Pietro a Maiella, ha particolarmente apprezzato la scelta del repertorio presentato da Riccardo Trebani di Grieg dell'Opera 54. E si intitola Titina, il sonetto di questa settimana di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale prende come spunto la canzone francese cantata anche da Charlie Chaplin nel film Tempi moderni, ripresa in Italia da Gabriella Ferri, per parlare della situazione delle strade cittadine. Sentiamo. Tu che vai sempre in giro, essi sincero, ma le strade rifatte, dove stanno? Diceva chi sta in arto nello scranno che c'erano risordi per davvero. Avevo letto, pure sul giornale, l'elenco delle strade rovinate, di quelle tutte rotte e scarcinate, non sprofondi e finisci all'ospedale. Non voglio confessare che mi aspettavo un panno di biliardo sull'asfarto, ma avendo letto bene dell'apparto, di vedere il risultato ce speravo. So annato quindi in giro stamattina, ma ste strade so come la Titina. A partire da lunedì l'ecocentro comunale e il centro di riuso di Via Alfio Flores 15 nella zona industriale di Civitavecchia osserveranno un nuovo orario al pubblico. La piattaforma sarà aperta da lunedì al sabato, dalle 6.40 alle 13. Il nuovo orario sarà in vigore fino al 31 agosto 2021. Il servizio è completamente gratuito per tutti i cittadini. Il centro di riuso e l'ecocentro comunale accolgono mediamente ogni giorno dalle 100 alle 140 persone. Tra coloro che si recano per gettare, ingombranti ferro, plastica, vetro, sfalci di potature e ingombranti. Coloro che invece lo visitano per donare oggetti o che sono alla ricerca di un oggetto usato. Cinque nuovi giovani sono entrati nella famiglia Avis grazie ai progetti di servizio civile e garanzia giovani. Si tratta di Martina Mercuri, Marco Ricci, Petitoni, Renzi Arianna, Cristian Falconi e Panno Valentina. I ragazzi per 12 mesi saranno ingaggiati dalla Provinciale Aureliana e dislocati nelle varie sedi comunali di Civitavecchia, Tolfa, Allomiere e Cerveteri con l'obiettivo di promuovere e incrementare la durazione del sangue nel territorio. E cambiamo argomento, parliamo di sport. Il Comitato Regionale Lazio ha reso nota la formula del prossimo campionato di eccellenza a cui parteciperà anche il Civitavecchia. Saranno tre i gironi, ognuno composto da 16 squadre. non ci saranno promozioni dirette in Serie D e quindi si dovrà passare dai play-off per tentare il salto di categoria. Saranno ben sei per ogni girone, invece le retrocessioni in servizio. Il mercato è ancora nella fase embrionale, ma in casa Civitavecchia arrivano novità per quanto riguarda il campionato di eccellenza che prenderà il via il prossimo 19 settembre. Con il comunicato ufficiale numero uno, il Comitato Regionale Lazio ha indicato tutte le modalità di partecipazione e svolgimento dei vari campionati dilettantistici. Per quanto riguarda il massimo campionato regionale, la struttura ricalcherà quello concluso poche settimane fa, anche se cambierà il numero delle squadre. Saranno ancora tre i gironi di eccellenza, ognuno composto da 16 squadre. Format che resterà solo per questa stagione, visto che il CR Lazio precisa che il campionato di eccellenza della stagione sportiva 2022-2023 sarà articolato in due gironi composti da 18 squadre ciascuno. Confermati i tre under che dovranno essere obbligatoriamente schierati in campo, un 2001, un 2002 e un 2003. Faranno discutere invece i criteri per la promozione in Serie D, visto che, come nella passata stagione, non ci saranno promozioni dirette. La prima classificata di ogni girone parteciperà al primo play-off. Di queste tre squadre, quelle classificate sia al primo e secondo posto al termine degli spareggi, le cui modalità verranno tempestivamente comunicate, saranno promosse in Serie D. Ci sarà poi un ulteriore play-off che vedrà impegnate le tre squadre arrivate seconde nei rispettivi gironi di eccellenza. Di queste solo la prima andrà avanti, ma non sarà promossa. Sfiderà invece la formazione che ha chiuso al terzo posto il primo play-off, quello tra le tre prime. In questa sfida 2, la vincitrice sarà promossa in Serie D. Più semplici i criteri per quanto riguarda le retrocessioni, che saranno ben sei per ogni girone. Le ultime tre classificate andranno direttamente in promozione. Ai play-out, invece, parteciperanno le squadre classificatesi dall'ottava alla tredicesima posizione. Le tre formazioni perdenti di queste sfide saranno retrocesse. E parliamo di basket. Nel corso della conferenza stampa in cui è stata annunciata la riconferma in panchina di Ferdinando De Maria si è anche parlato di mercato in casa Stemar 90. Come annunciato dall'intervista rilasciata ieri, Borna Zikovic ha salutato la squadra e non ne farà parte nella prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di confermare nuovamente l'americano Hankerson, considerato dal DS Campogiani un Civita Vecchiese acquisito. Ma nelle prossime settimane si valuterà se ci saranno le basi per proseguire il matrimonio. Il club dovrà prendere una decisione anche sul futuro con Aydar Sekic. Intanto ciò che è sicuro e che sta per ripartire è il talent del club per ricercare dei lunghi che possano entrare nel nuovo roster. La prossima settimana si dovrebbero tenere degli allenamenti in cui il coach De Maria potrà visionare alcuni giocatori sia stranieri che italiani. Un progetto per unire le migliori atlete del territorio e pensare all'ASP del futuro è quanto ha in mente la società Rosso Blu per la margutta Civita Lad che invita le ragazze che vogliono avvicinarsi al club a farlo già in queste settimane perché i Rosso Blu stanno mettendo in piedi un gruppo che in futuro avrà la possibilità di affrontare dei campionati nazionali. Ascoltiamo l'intervista. Giancarlo Reggnero si lavora per quanto riguarda la margutta Civita Lad in B1 ma si lavora anche per il futuro di quello che sarà l'ASP la margutta nei prossimi anni. Cosa sta succedendo? Abbiamo lanciato un progetto intanto di collaborazione con tutte le associazioni del territorio per cercare di mettere insieme le migliori e fare delle squadre molto competitive. Non abbiamo avuto molte risposte in questo senso. Ora stiamo cercando il nostro malgrado di fare da soli. Il progetto è questo, è molto semplice. Noi abbiamo una categoria nazionale. Sarà essa l'alta B2 o il mantenimento della B1 nei prossimi quattro anni. In questi quattro anni dobbiamo lavorare affinché il gruppo diventi gradualmente di giocatrici locali e del territorio. E deve partire un progetto giovanile che passa dalla serie C e dalla serie D. Noi quest'estate lanceremo questo progetto lo prospetteremo questo progetto ai talenti del territorio e offriremo loro la possibilità di giocare anche in categoria regionale o la serie C o la serie D. Il mio sogno rimane quello di fare una serie D con un gruppo prevalentemente under 16 e qualche under 18 e di fare una serie C con gli amici di Santa Marinella con un gruppo prevalentemente under 20 e una prima divisione con un gruppo di under 16 e under 14. Questo è il nostro progetto. Deve essere funzionale alla B1. Questi talenti faranno la categoria regionale si alleneranno regolarmente anche con la categoria nazionale ma c'è un ma. Devono iniziare a lavorare con noi da questa estate da fine agosto. Tutti dicono che hanno i migliori allenatori in casa lo diciamo anche noi e noi aggiungiamo anche che vengono con dei fondamentali non ben solidi. Non hanno saputo bene insegnare loro i fondamentali a nostro avviso sia per quanto mi riguarda sia per quanto riguarda anche il tecnico della B1. Dobbiamo lavorarci noi per i prossimi 4 anni quindi se vengono da noi quest'estate saremo ben contenti di lavorare con loro per loro per farle poi arrivare in categoria nazionale. Se non vengono questa estate noi non le accoglieremo negli anni futuri. Da noi c'è l'uscita libera perché abbiamo tolto il vincolo ma l'entrata non sarà più tanto libera. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva dalle spiagge cittadino una nostra telespettatrice ha contattato la nostra redazione per segnalare l'assenza di portaombrelloni sulla spiaggia della Marina cosa che sta creando molti disagi e bagnanti che non riescono a sistemarli anche a causa della presenza dei sassi. La cittadina segnala anche che questo non si verifica nelle spiagge vicine dove invece i portaombrelloni sono tantissimi. Inoltre la telespettatrice riferisce che alla Marina nel personale di CSP non effettuerebbe gli interventi di pulizia cosa che avviene di frequente al Pirgo come di consueto geriamo la segnalazione agli organi competenti. Ed ora passiamo ad un'altra segnalazione che ci arriva da via Agostino Cerruti via Francesco Navone zone limitrofe. Un nostro telespettatore spiega che ieri e oggi non è passato l'operatore addetto al ritiro della raccolta differenziata quindi non è stato effettuato il ritiro del cartone dei rifiuti indifferenziati. Il signore afferma di aver segnalato la situazione a chi di dovere ma di non aver ricevuto nessuna risposta. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. E con questo è tutto termina qui questa edizione del nostro telegiornale ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie per l'ascolto auguro a tutti un buon fine settimana.